Sono la cantante degli Abba, quella bionda si vede, no? Adesso ricordo il mio passato tanto angoscioso, l'avevo rimosto completamente, io ho avuto due uomini nella mia vita, due uomini nello stesso tempo, e sono rimasta incinta di loro, ma io non mi chiamo Agnetta, io mi chiamo Incarnacion e sono Argentina.